Previsioni per sabato 7 luglio. La pressione è in lieve aumento ma la Lombardia rimane lambita da correnti umide sud-occidentali che portano nuvolosità irregolare su Alpi e Prealpi, specie occidentali, con il rischio di qualche rovescio o temporale durante il corso del giorno, specie su Alto Varesotto, Alto Lario e Valtellina occidentale e poi durante la notte. Ben soleggiato sulle pianure, temperature in lieve aumento ma con caldo sopportabile e massime inferiori o intorno ai 30 gradi centigradi. A Pavia dopo domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopo domani la temperatura massima registrata sarà di 31 gradi centigradi, la minima di 19, lo zero termico si attesterà a 3.700 metri. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da ovest sud-ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da ovest sud-ovest. Allerte meteo previste AFA. Previsioni per domenica 8 luglio. Ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana anche sulla Lombardia per una giornata in prevalenza soleggiata e calda su tutto il territorio regionale. Residua variabilità al mattino e qualche nube pomeridiana in montagna associata a qualche acquazzone o breve temporale. Temperature in ulteriore lieve rialzo, punte di 33-34 gradi sulle pianure. A Pavia cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31 gradi centigradi, la minima di 19, lo zero termico si attesterà a 3.950 metri. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da ovest sud-ovest, al pomeriggio assenti o deboli proverranno da sud-ovest. Allerte meteo previste ancora AFA.